ah allora eccoci di nuovo con l'ascensore con piano b1 semi interrato e locali caldaia locali caldaia sembra anche abbastanza grande come tipo di piano quindi let's go andiamo andiamo nei locali della caldaia dopo aver salvato il nostro secondo toad siamo pronti per un nuovo piano devo dire che la lotta scorsa è stata molto molto bella io fossi in voi me la rivedrei piano b2 ok locali caldaia in effetti c'è una chiave inglese come indicatore questo mi sa di pericoloso oddio anche lo scorso dove c'era il dinosauro non è che fosse molto meglio però allora lì sopra vedo già un bel po di roba però così non la posso prendere proviamo a esplorare qui mi sa che posso fare così ok e dai no e dai di nuovo ecco a zubat me la pagherete cara un giorno non posso fare niente di qua ah quindi totalmente inutile ah useless ho sentito qualcosa vabbè intanto qua facciamo un po di piazza pulita qua dietro c'è qualcosa io aspiro tutto mi sa che ci sono un po di soldi ah ci sono dei topi BAM ok meno male che ho fatto il giro anche se uh aspettate ok qui ci può andare gommi luigi stupido posso spaccare bam sapereglie ovunque cuore gommi luigi vai sali per caso Yes Yes Speravo in qualcosa di più Ok Speravo di poter salire lì In realtà Come posso fare per andare lì? Vediamo un'ultima cosa Stavo proprio dicendo Vediamo un'ultima cosa se c'è una scala E in effetti Che fa? Non ce la faccio a prenderli Ok No E qua Oh bene E saliamo Già molto pieno questo Questo piano anche Dalla primissima stanza quindi Molto interessante Aspiriamo 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 Vediamo qualcosa Siamo caduti su un lingotto d'oro Poco male Ok Prendi 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 Quella non so se ci arrivo Presa Possiamo andare? Eh lo sentivo questo rumore Ah c'è qualcuno che sta dormendo Ora Ecco Ehi Salve Ehi Grazie eh Attento Luigi Attento spostati Ok Ok Allora 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 Cosa devo fare qui? Questo qui lo posso fare Ok Ok Prima cosa Controlliamo qua Qua vediamo se si può Oh Sì Si può Mi sa che si può Uh l'avevo preso Ok Eccolo Ok Allora Facciamo così Intanto provo il primo Ok Va bene Ci sta E ora proviamo il secondo Quindi Ah Qui c'è la chiave Prendi la Ok Mmm 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 Ah e là c'è un collezionabile Aspettate che forse Ci posso anche andare lì In alto a sinistra Vedete c'è una chiave inglese Vediamo No No Gira di qua Vediamo se Se compare qualcosa Nope C'è qualcosa però lì sopra Dovrei trovare Uh 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 Ecco Ah ok Più semplice del previsto Bravissimo Gommi Bravissimo Gommi Puoi tornare qui No Oh hai lasciato lì la chiave Oh mi Luigi Ti avevo fatto troppi complimenti Hai lasciato lì la chiave In un posto più difficile rispetto a quella dove l'aveva lasciata il gioco Vai Riprendila Ok Torna qui Tiè Ok Chiave ottenuta Ha smesso anche di sputare acqua quello eh Ehm Qui sotto Niente Andiamo C'è di nuovo lui O no O no Un camposmino normale Uno Due Tre Quattro Ah c'è ne più di uno E se lo sbatto così Boom Ok C'è ancora qualcuno Aspetta No No Non dirmi che Come faccio Uh Come faccio a toglierglielo Così Quasi Quasi Ok Vai Perfetto Tira 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 Uno Due Tre Ok Oh yes Allora Abbiamo un po' di cose da fare Qui abbiamo intanto una porta Ok Abbiamo questo Che posso spostare di qua Io credo che qui ci serva gommi Luigi E nel frattempo controllare questi livelli con Luigi Quindi facciamo così Facciamo scendere gommi Luigi Si dovrebbe allargare un po' la visuale immagino Ok Ho capito il tipo di dungeon Ok qua sotto non ci può andare Io mi metto qua e cambio E facciamo Proviamo così No Allora forse lo controlla questo Ok Portiamolo avanti Ricambia Gira Ok Vai qua Gira un po' Ok Cambiamo ancora E credo che io debba cambiare ora questo Cambia qua E l'ultimo Ah c'è un'altra qui Non l'avevo vista No dall'altro lato Yes Non l'avevo vista Meno male Meno male che L'ho beccato Altrimenti poi magari dovevo ricominciare tutto Vabbè Quelli li ho persi Bam E si vola Bravissimo gommi Plam 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 Uh C'è qualcosa qui C'è un estintore Che ci fa questo estintore qua Non so Uh Ok Ecco a cosa serve Ma sono caduti tutti questi soldi Quindi alla fine poco importa Perché non ne ho preso nemmeno uno Quasi Va bene Risaliamo di qua E andiamo Eccoci qua Allora Qua sembra molto Wow Ok Sembra molto complicato Intanto andrei in questa stanzetta Così magari vediamo Ok Qua mi sa che ci vuole di nuovo il gommi Luigi Su 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 No Allora qua mi sa che ci vuole di nuovo il gommi Luigi Vediamo dove va E poi Controlliamo un po' con la valvola Qua credo che non ci sia nulla E da questa parte non si può andare Quindi facciamo così Cambiamo questa Ok E riproviamo Ah no Non c'entra niente questa valvola Ho sbagliato Facciamo così E qua c'è un altro tubo Infatti Aia Spostati Ma può essere che mi fa male un secchio Ok Scendi giù E Ah ok Wow 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 Mi sembrava che stesse andando giù Ok Allora facciamo così Rispostiamo questa valvola di qua No La rispostiamo di qua Ok Prendiamo questo Ok Prendiamo qua Ora per andare sotto Invece la devo rispostare Ancora una volta Quella valvola Però C'è bisogno ancora di qualcosa Via Facciamo così Vediamo qua sopra Che quel draghetto ci serve Credo Credo Che mi convenga Fare Rispostiamo questa Credo che lo possa fare Esatto Ritorniamo con lui Scendiamo E ci pigliamo Anche il collezionabile Ottimo E abbiamo ripulito questa stanza E possiamo risalire con lui Perfetto Una volta ripulita questa stanza Andiamo in quella centrale E Vediamo un po' Ok Allora Qui c'è Questo E Wow 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 L'ho acceso Vediamo che succede Se faccio così Ah Ok C'è un sacco di roba qui eh Intanto vediamo questi E apriamo qui Apri Ok Ora Ora Vabbè ok In un modo o nell'altro Ce l'ho fatta Adesso Adesso Ho spostato quello Wow C'è così tanta roba Che non so da dove cominciare Perché qui c'è l'acqua E Gomi Luigi non può passare Qui cosa c'è? Ok Prendilo Vai Ok Poi L'altro Prendilo Vai Ok Altri soldi Vai qua Boom Altri soldi Perfetto E qui C'è l'acqua C'è di tutto Non si può vedere niente Vabbè forse non c'è nulla Allora Credo che andando di qua Sicuramente c'è qualcosa da fare con Gomi Luigi Ok Ok Qui la telecamera si ferma Ah ok Non è molto forte Ogni volta che deve Girare un qualcosa O premere un tasto Ci mette un sacco Ok Ok brutta storia questa Ehi Ho fatto cadere giù di nuovo Ok Allora quella lì è la porta principale Aiuto doggo Ok Ok Perfetto Funziona tutto ancora Ok Allora Tutto ancora più complicato Ti sei davvero cacciato nei guai Luigi Grazie Ma buona notizia per te Il poltergast G0M è stato testato in profondità Insomma impermeabile Meno male Il fantasma ha usato l'interruttore Per controllare il livello dell'acqua E ora sei bloccato Credo che tu possa raggiungere l'interruttore Seguendo il canale di scarico Prova dai Devi riportare l'acqua al suo livello originale E inseguire quel fantasma Ok 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 Allora Cominciamo da qua Oh my Oh oh Allora Prova a premere le tasti a caso Funziona sempre Bam Eh sta facendo solamente il caffè Ok Dov'è il fantasma? Ci sono cose che si muovono C'è un lapras Eccolo No Da qua forse posso controllare il livello dell'acqua Vabbè Io qua avevo azionato questo pulsante Questo pulsante Niente Non fa nulla Vabbè Interagiamo con questo Può essere che non ci sia nulla? Togliamo i post-it Togliamo tutto Ok C'è roba anche C'è roba anche Adesso c'è qualcosa C'è qualcosa qui Uno due E tre E tu? Cosa sei? Eh ma non posso interagire? Hmm No Vabbè Però adesso lasciamolo qua Proviamo ad andare di qua Ok Ma quanto è grande Questo posto? E' enorme C'è sempre Il calendario di una fantasmina Scegliamo Ah con la paperella quindi eh Vabbè Andiamo Posso guidarla? Vai Non posso fare nulla però Ah Aspetta Ok Ecco cosa posso fare Vai 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 Aspira Vai No vabbè No vabbè Ok Andiamo di qua Ok va di qua E sopra cos'è? Non so cosa sia Andiamo di qua Io sto andando un po' a tentativi perché in realtà non lo so come Come devo fare Ok Mi sa che lo devo tenere lì Vai Passa da quel lato No Intanto Vediamo se qua c'è qualcosa Vediamo se qua c'è qualcosa Uh Uh Interessante Ok Vai Piglia tutto Piglia tutto Ok E ora andiamo No vabbè questa qui è una genialata Comunque Non mi fare rimbalzare No gira Perché non Ok Gira Vai 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 Non è facilissimo però Ce l'ho fatta Vai di qua Ok Vai Tu puoi andare di qua? Sì 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 Ci può andare E se vado di qua dentro? Dove va? Ah Più ho un sacco di roba Vai Vai così Sì Ok Di là c'è acqua Quindi non ci posso andare Andiamo di qua Dove mi porto? Dove mi porta? Hm Qua sotto Dove ci posso andare anche con Luigi normale Quindi andiamo di qua Mi porta qui Dove magari C'è qualcosa di interessante Manè 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 Ok Beh direi di tornare con Luigi Ah c'è un po' di corrente Ah c'è un po' di corrente Vieni qua Vieni qua Ok Ehm Allora Allora Vediamo di qua Ok Credo che quella valvola rossa Là sotto Mi possa servire Per far passare Luigi Gommi Luigi Anzi No no Via 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 Sposta di sposta di sposta di sposta di sposta di Ahia Non è facilissimo comandare questa paperella eh Perché non si muove da tutte le parti Ok vai 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 Gira 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 Ok Facciamo così No Oh no Ah ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Facciamo così Facciamo così Facciamo così Ok Lo mettiamo qui vicino Vai Vai Girati di qua Girati così E mentre Eh no Eh Però tu nel frattempo devi aspirare Così 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 Vai Ok Vai così Vai di qua Uh È tosta E andiamo di qua Li spostiamo con lui E possiamo entrare qui Vai da questa parte Puoi andare anche tu qui Ok Ah è andato a sinistra Ok Posso fare così Posso fare così Vai 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 Veloce 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 Gommi Luigi Ok Dovevo essere più veloce Infatti Dovevo essere più veloce Perché mi sono messo a Prendere le varie robe Vai qui Vai 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 Gommi Vai Gommi Vai Gommi Ok Oh yes Eh mi sa Ah no Potevo anche andare di là Potevo anche andare Vai di qua Vai qua Vai qua Vai qua Varcheggia Ok Posso anche utilizzare Gommi Luigi Qui Credo Perfetto Per andare Di qua Allora Facciamo così No Allora 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 Prendere a sinistra Ok Cosa c'è che fa il Bip 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 Ah lì Qua mi sa che ci potrebbe essere qualcosa di interessante Ok Tipo questo Però è pericoloso Perché sono col Gommi Luigi Che Potrebbe anche Perdere Vai Ok Ok E ora Andiamo qui Così andiamo a destra E possiamo andare qui A fare questo Vai Era solo per questo? Forse si Va bene Uh Uh Cosa ho scoperto? Cosa sto tirando? Ah Lo dovevo fare con Gommi Luigi Probabilmente Vabbè Andiamo Vai di qua Prendi tutto Prendi tutto Ok Non posso utilizzare la La ventosa Da qua Comunque Vabbè Vediamo che fa Ok Posso andare con lui Posso andare di qua Tu rimani lì Luigi Aspetta 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 Mi sono distratto Perché stavo guardando le altre cose Ci sono troppe cose qui Vai Ok Qui posso tirare qualcosa No 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 È quello che sta tirando Luigi da sotto Vai Perfetto Qui vediamo cosa c'è No Devo andare Mi sa che devo andare io di là A tempo Appena finisce Vai 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 Ottimo Vai Tira su Oh yes Gli squali Gli squali Ci stanno Ci stanno attaccando No 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 Tieni su Devo fare così Devo fare così Gira 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 attorno Vattene via Vattene via Vattene via Lascialo Via 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 Ok via Fermo Fermo qua Sono ripassati pure gli squali Sono ripassati pure gli squali Ok No, non sono passati forse gli squali Voglio smettere Voglio uscire dall'acqua Ho paura di stare qua Ho paura Pauro, 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 pauro Ah Via Ok Girati da questa parte Girati Girati di qua Di qua Di qua I controlli sono parecchio complicati qui secondo me Uh Terraferma E Luigi E Gommi Luigi si è avvicinato da solo Ok E qua Prendiamo tutto Cuori, robe Ok Va bene Hai fatto un ottimo lavoro Hai fatto un ottimo lavoro Gommi Luigi Andiamo qua No, stavo distruggendo quel Quel coso Ok, fammi premere quel tasto Please Aiuto Ok, là ci sono due valvole Uh, c'è di nuovo lui Me lo ricordo Ok, me lo ricordo Devo stare attento L'altra volta era L'altra volta lo potevo vedere Uh Ce n'è due Mi è qua Ok L'altra volta lo potevo vedere Grazie al Specchio Questa volta no Dov'è? Dov'è? Eccolo Vieni qua Vieni qua No, 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 no Dove scappi, dove scappi, dove scappi, dove scappi Uno Due Tre Quattro Uh Yes Yes I did it Ok 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 Allora Vediamo un attimo cosa fanno queste due valvole Una Non ho visto alcuna differenza E due Non ho visto alcuna differenza Però credo che le frecce mi indicano la direzione del tubo Eh, vabbè, qua il gommi Luigi giustante perde subito La direzione del tubo Quindi vediamo se adesso va subito a destra Sì E se adesso sale Perfetto Perfetto Ok Allora Ora Questo cosa fa? Proviamo Ok Questo sale di qua Ah, ok, ho capito Quindi adesso posso riscendere Posso fare così Gira Quindi la freccia di questa valvola Mi indica la direzione che prenderà gommi Luigi Quando entra dentro il tubo Quindi ora va a destra Destra E quello che l'ho corretto Va su Yes Vai gommi Luigi Prendilo Spingilo Dov'era? Giù o su? Proviamo a spingere su Proviamo con la ventosa Vieni qua Oh, ok Ok Yes Vai Vai Giù Ok È stata un'impresa È stata un'impresa È stata una bella impresa Qualcuno Vabbè Vabbè Perfetto Perfetto Da questa parte Ok Ok Sì È proprio con la ventosa Però devo fare così E basta Oh, bene Mi sono seccato Eh, becca di questo Ok BAM Cosa fa? E mi dà un po' di soldi Via C'è un'altra Di là Vieni qua Vieni qua Dai Ok Ok Ho visto qui Che c'è Un posto Dove può andarci Gommi Luigi Posso aprire? Ok Perfetto Bye bye Okidoki Questo qui lo posso ancora Premere? No Questo Cos'è? Ah, posso Uh 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 Vabbè Lasciamolo lì Ok Credo che questa qui Sia tutta una ricompensa Per tutto quello che abbiamo fatto E direi che adesso Ce ne possiamo andare Verso sinistra Boh Magari anche da questa parte Non so effettivamente Se devo ritornare di qua O dall'altra parte Vediamo un attimo Dalla mappa Mappa Eh Da sinistra probabilmente Ci arrivavo subito Quindi Sì Andremo a sinistra Poi Dobbiamo fare così Dobbiamo prendere anche questi Ok Boom Boom Ah ok Faccio ancora qualcosa No Oh no Oh no Oh no Via qua Via qua Oh yes Sì sono proprio cattivi Uh E anche questa è ripulita Io però voglio Un collezionabile Qui Guardate le maschere Ok No Sono volati via Da un'altra stanza Ok Andiamo di qua Spero che Spero che tutta questa strada Serva a qualcosa Dammi quantomeno Un collezionabile Boom No Vai di qua Prova qua No 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 Non c'è nulla Qui No Non c'è nulla Vabbè Allora andiamo a sinistra Spero che bisogna andare Da sinistra Altrimenti Devo ritornare di nuovo Tutto a destra Ok Andiamo di qua Sembra che siamo arrivati Un vicolo cieco Forse Sì Un vicolo cieco Perché qua ci potrebbero Passare gommi Luigi Ma c'è l'acqua Quindi Niente Qua non si può fare nulla Garen Ci siamo Ok Finalmente Ora Qui avevo creato Cioè avevo Ripristinato questo Ma boo Non si sa che cosa serve E qui Possiamo andare Ed eccoci di nuovo qua Ed eccoci di nuovo qua Dov'è il tizio della caldaia? Ok Possiamo scendere Perfetto Allora Vai Così magari andiamo in quello lì a destra Vai Ok Prendiamo anche questo Oh yes Oh yes Puff Ok bene Ok Ora Posso andare qua Yes Eccoci qua Eccoci qua Sbloccalo Aspetta un attimo Prima di sbloccarlo Anzi C'è qualcosa qui? C'è nessuno? Va bene Sbloccalo Lucky Apri Spostati da lì È pericoloso Ok Pensavo si aprisse di scatto E lo buttasse giù di nuovo Ok Questa porta che si chiude dietro di lui È molto pericolosa Ok Ci siamo Ho brutto presentimento C'è la paparella in mezzo No Non dirmi che devo Ah però c'è un asciugamani C'è un asciugatore per le mani E basta svegliarlo ogni volta in questo modo Credo che la lotta sarà in acqua ragazzi Ho questo brutto presentimento Dai sali sulla paparella Ok E lui aveva pure delle bombe Ho un brutto presentimento Ah anche lui però in acqua Allora No 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 Eh già mi ha Già mi ha dato una sberla Allora attorno Non ci posso andare Attorno non ci posso andare Via 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 No Ok mi ha buttato fuori Però un colpo gliel'ho dato No Devo rigonfiare la stessa Vai Eh Vabbè Ho capito come fare Però Però è difficile È veramente difficile È veramente difficile Vai dammi un colpo No 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 Ok Ok allora facciamo così Andiamo di qua Vai Eh vabbè E vabbè subito Allora così io spingo Allora così io spingo Ok sinistra spingo eh Ricordiamocelo A sinistra spingo Via A destra Aspiro No 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 Aspira aspira Ok Aspira aspira Bam Vai 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 Yes Dai che io l'ho scoppiato Dimmi che lo dobbiamo andare a prendere pure da quella parte Vai Salli Corri 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 Vai Ok Uno Due Tre Quattro No vabbè ragazzi Molto molto difficile questo Ma se io sto qui sopra Questo qui Lo posso pure lanciare Vediamo se io lo posso lanciare Magari No no io lo posso lanciare Perché devo scendere sotto E lui mi sta pure aspettando Ok Andiamo Topino dammi un cuore Useless Allora Sinistra spingi Eh subito È difficile Non è facile Perché la paparella Non può girarsi a 360 gradi Gira solamente un tot Quindi bisogna essere attenti Spostati tu Spostati tu Vai Bisogna essere attenti Ok Via Spingi Spingi No 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 Lui è tutto sparaflashato Vieni qua Vieni qua Ah ok No 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 Questa è una delle sfide boss Più Ti comienza a tenere fuori Come Luigi Dici che mi puoi usare da sopra A fare che Ok Attiro di qua No Tira 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 Gira tira tira Gira di qua Vai di qua Vai di qua Oh mio Sto diventando un pro No Ok No Spingi 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 Gira Sparaflash Aspira Sparaflash Aspira Ok Aspira di nuovo Non lo No Dovevo buttare nelle spine Non qua Via 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 No 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 Eh Ho paura che questo sia veramente Una sfida Dove avevo bisogno del doggo Il doggo che mi cura Gira 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 Vai da lui 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 Aspiralo 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 Via qua No 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 Di qua Vai Yes Via 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 Veloce Veloce please Veloce Vai Vai Luigi Vai Luigi Ti prego non fartelo scappare Non fartelo scappare Non fartelo scappare Non fartelo scappare Yes Ok Uno Due Tre Quattro Ho un cuore Un po' come Non lo so Senza cuore Tu non mi dai un cuore Non mi dai un cuore Almeno tu Che fastidio Che fastidio Questa lotta è fastidiosissima È proprio È proprio scomodissimo È proprio scomodissimo Vai di qua Vai di qua Vai di qua Veloce Vai di qua Veloce Vai Ok vai Veloce 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 Luigi Veloce No 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 sì sì l'ho preso ho preso l'ho preso dai prendilo no 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 ah certo posso tenere gommi luigi qua per prenderlo poi dopo più in fretta ok è non mi aiuta poi tantissimo però ok via di qua vai 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 prendilo 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 please prendilo please via qua ben madonna se ti spacco madonna se ti spacco ancora ce n'è uno vanno a prendere vanno a prendere vanno a prendere via vai 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 dai dai via donna se ti spacco sì sì becca di questo sì 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 e ancora sì dove è andato non lo so vai a prendere i cuori please fai qualcosa gommi luigi mamma mia no è lì come ci vado non li posso prendere quei cuori piano piano dove è andato mi sono distratto che ha fatto posso andare da quel lato forse piano 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 ok forse devo abbassare la l'acqua credo che debba abbassare l'acqua abbassiamo l'acqua prima cosa abbassiamo questa dannatissima acqua mai mai vai 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 via 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 grazie mille scendiamo con 39 di vita aiuto Vallo a prendere Aspetta Vabbè Prendiamoci intanto questo Salva salva Affinché vada tutto bene Oddio ho perso Ho perso Totalmente il senso Di tutto E non riesco a trovare più l'uscita Fatemi uscire vi prego Fatemi uscire da questo posto Fatemi uscire Ma non c'è l'uscita È sopra Non c'è nemmeno Aiuto No 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 Non lo accetto Non lo accetto Non lo accetto Ma è mezz'ora che giro intorno a questa strada Ma porca miseria È mezz'ora che giro intorno Incredibile Fatemi uscire di qui Voglio uscire Voglio uscire Mannaggia Basta Non voglio mai più entrare in una caldaia in vita mia Ecco gli effetti di Luigi's Mansion sulla gente Via Via Sì l'ascensore Sì L'ascensore Sì Dieci Va bene Basta che siamo lontani da qui Basta Che siamo Lontani Da qui Fine Fine Qui Voi